Il primo gruppo Il nome della coreografia che portate Allora, noi portiamo Finale degli ECB Che è un gruppo Non mi troppo conosciuto, però Stannato E anche questo, perché Conoscere gruppi nuovi, non solo come Quindi andate a cercare Bene, allora vi lascio e ci faccio un applauso A tu Vai bene Noi 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 Non c'è nessuno, non c'è nessuno Sì, 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 sì No, 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 no No, 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 no 나 아픈 척 가지고 다진 마다 너 ά가그 summer 힘내지만 그 sunny 피곤한 내 동산 좀 크게idors Sì, sì, sì su una mia figlia su una figlia su una figlia su una figlia un applauso wow adesso andiamo a vedere il nostro gruppo dove è una digizione allora a chi dovete poter portare questa coreografia sono curiosa quindi sei tu la ragazza che ascolta questo gruppo tu se la fai nel gruppo? questo gruppo ma è stata sulla linea di Portanna quindi è una cosa collettiva bene, complimenti perché avete portato una coreografia nuova quindi andate tutti quanti a cercare questo gruppo anche per ampliare gli orizzonti insomma, complimenti ragazze siete bravissime sono in canta a guardare il fonzoletto si, ma anche il fonzoletto ho detto io ho detto mi comprate facilmente io spero che i nostri giudici siano meno comprati perché io ho detto facceletti va bene ragazzi grazie mille un applauso ancora grazie grazie